La banda della spaccata questa volta ha preso di mira la gioielleria Corona all'angolo fra via Mariano Stabile e via Ruggero VII nel centro di Palermo. All'alba i ladri hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando una Fiat Panda, hanno rubato i gioielli e sono fuggiti a bordo di un'altra automobile. La polizia sta visionando immagini delle telecamere cercando tracce all'interno del negozio mentre i titolari questa mattina hanno fatto l'inventario per capire quali gioielli siano stati rubati a quanto a Monti il danno complessivo. Un furto con spaccata era avvenuto anche lunedì in un'altra gioielleria in via Serra di Falco e ieri notte in piazzetta Bagnasco c'è stata un'irruzione di ladri che hanno portato via un bottino di 2000 euro dal Vintage Cafè.